Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Brawl Stars, signori, che tra l'altro ho visto c'è anche un nuovo, c'è stato un aggiornamento che ora riguarda tutto un coso di Natale, non ci sono più gli omini di Halloween tipo, ma ora riguarda tutto un discorso di Natale e cose varie, che cosa carina, intanto qui la nostra bellissima Super Saiyan Shelly gira su se stessa, però va bene. Allora, signori miei, detto questo, giustamente siamo tornati sul canale, quindi bisogna tornare anche su Brawl Stars, continueremo a portarlo ogni tanto qualche episodio, qualche volta sì, qualche volta no, e niente, signori, detto questo, prima di partire col video vi ringrazio in indicio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che lasciate al mio canale, vi ricordo di iscrivervi e di seguirmi sui social, mi trovate soprattutto su Instagram come Maullo941, soprattutto nelle storie che vi aggiorno su quando saranno le live. Allora, signori, detto questo, possiamo partire con il video. Ok, signori, allora, prima di tutto, intanto rimettiamo Shelly che ci guarda in faccia, così, perfetto, perfetto. Allora, signori miei, ci sono un po' di cose da fare, intanto ho una richiesta di amicizia di Dagot5, non so chi sia, accettiamo, e chi voglia aggiungermi come gli amico, raga, lo potete fare tranquillamente, lì, dillo, vedete lì, fatelo, e così voi eventualmente vediamo se riesco a organizzarmi per qualche live. Vedo se riusciamo a farlo tutti quanti assieme. Dopodiché, negozio, andiamo a sbloccare un sacco di cose. Allora, tutto, vogliono soldi, vogliono soldi, gratuito, oh, le cose gratuite sono sempre ben accette. 18 monete, non ci fammo nulla con 399 monete, ma dillo, ma sei un pezzente, ma dammelo un altro e fammi arrivare a 400. Abbiamo brawler, brawler, perché c'ho due su brawler? Non c'ho nulla, mi spuntava che c'era un nuovo brawler, lui può essere? No, so io, so scemo, leggo cose strane. Va bene, ma possiamo fare qualcosa? Perché questi hanno l'asterisco verde? Ah, perché li posso migliorare, sì, sì, potrei migliorarli, ma non c'ho i soldi. A 35, lui lo posso migliorare, ma non abbiamo abbastanza punti di energia. Di che stiamo a parlare? Niente, mi sto a confondere, signori. Andiamo su Brawl Pass, signori miei. Allora, non missioni, ma ricompense. Possiamo fare niente? No, Brawl Pass? No, questa l'abbiamo aperta, quella l'abbiamo aperta. Non possiamo fare nulla, che cosa carina. Perfetto, dobbiamo arrivare a 400 per sbloccare il Brawl Pass, va bene. Andiamo su 9 e 20, signori, sblocchiamo tutto. Tieniamo qualcosa di interessante? No, andiamoci a fare una partita di calcio, ma non con la nostra Shelly, signori. Andiamoci a prendere il nostro... È il primero, andiamoci a prendere il nostro re misterio, signori. Diamo dei bei pugnazzi a tutti e vediamo di portarci a casa qualche partita. Bello, ho sbagliato fondamentalmente. Devo vedere se c'era qualche missione attiva per poter fare delle missioni e portarci a casa dei punti interessanti. Invece sono stato scemo, perché non ho visto... Dove sto andando io? Aspettate, scusatemi. Io mi sono un attimo perso, signori. Sto tirando pugni a vuoto, perché d'assai che non gioco. Non so... Va bene. L'abbiamo segnato così a caso, va bene, mi sta bene. Una zilla per noi, parla al centro. Dai così, dai così, recuperiamo il pallone. Dai, 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 piglia la calce in maniera giusta. Dai qua, dai qua che c'è l'orso Yogi. Fai fuori l'orso, bello così. Abbiamo fatto fuori l'orso. 2-0, prendi e porta a casa, signori. Va bene così. Prima vittoria, primo video, prima vittoria. Prima partita, prima vittoria. Va bene così. Non siamo stati migliori, però abbiamo vinto. È il campione, sala grado 3. Ah no, ci vediamo degli obiettivi con il nostro carissimo... Sconvinci 24 nemici. Vinci 8 partite, non ci riusciremo mai. Vinci 5 partite. Dai, è così. Andiamo a fare le partite, signori. Ok. Monete ovunque. Andiamo a giocare, signori. Dai, 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 dai. Che ci riusciamo. Ci serve un'altra vittoria, signori. Ci serve un'altra vittoria fatta bene. Dai così, dai così. Dai così. È il primo, è il nostro re mistilo, signori. Dai che prendo tutti a schiaffi. Dai che prendo tutti a schiaffi. Dai, dai, forza. Favatevi sotto, vi piglio a schiaffi. Devo ammazzare non so quanti nemici. Quello dove sta andando? Quello... Bogdan ha segnato, va bene. Grande Bogdan. Io dovrei riuscire a prendere a legnate i nemici come se non ci fossero domani. Quello è te, te, ti piglio a legnate pesantemente. Sto tirando il pallone a me stesso, perfetto. Dai così, dai così, dai così, dai così, dai così, dai così, che segno è segno. Il 2-0 è mio, signori. Il 2-0 è mio, prendi e porta a casa. Non siamo stati manco stavolta i migliori in campo, però va bene. Ce ne frega poco, signori. L'importante è aver portato a casa punti. Oh, vinci 5 partite. 250 teschi. Evento monete. Gioca ancora. No. Via così. Tante belle monete arrivano per noi. Tanti teschi. Abbiamo il Prol Pass. Che andiamo a prendere, ma sono i gettoni quelli verdi. Che non ce ne fanno nulla con questi, non è vero? Ah no, 14 monete. Punti di energia per Jackie. Ah, che cosa simpatica. Punti di energia per Shelly. Che cosa simpatica. Ok. Bella così. Andiamo, aspettate. Come ricompense cosa c'è? Che possiamo missioni che abbiamo quasi completato. Nessuno. Un sacco con Shelly. Vinci 3 partite senza sopravvivenza. Vinci 5 partite con stecca. Troppo lungo. E il primo. Vabbè, dai. Continuiamo con il primo. Con il nostro carissimo re misterio. Vediamo di riuscire a fare qualcosa di interessante. Dai, dai. 3 partite. Dai. 3 partite. Riusciamo a vincere la terza, se non vuoi? Ecco, già il fatto che uno non si muova mi dà facile. Ta 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 ta. Vi piglia pugni pesanti. Ta 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 ta. Siamo una potenza, signori. I nostri pugni li sentono pure in Corea del Nord. Cosa c'entra non lo so. Però va bene. Dai così, dai così. Che poi lo scopo del gioco sarebbe quello di prendere il pallone e segnare. Noi stiamo solamente rifilando punti. Ecco appunto, Black Scorpion ha segnato. Va bene così. Meno male che c'è Black Scorpion. Scorpion almeno Ci porta lui i punti a casa Io tiro pugni come se non ci fossero mai Dai così, dai così Non ce n'è per nessuno signori Non ce n'è per nessuno Aspetta che mi vado a prendere Anche questo, dai così Tre partite su tre signori Siamo tornati che è una cosa assurda Ma non siamo stati nemmeno i migliori Questa volta, ma porca di una paletta ambriaca Riusciremo a essere migliori in una partita Una partita, riusciremo a essere migliori Sconvinci i 24 nemici Ne abbiamo sconfitti solamente 7 Va bene Gioca ancora No Usciamo e facciamo un'ultima partita signori La quarta della giornata Arrivare al prossimo Brawl Pass è quasi impossibile Però potremmo anche arrivarci Potremmo anche arrivarci Zitti zitti, vediamo se riusciamo ad arrivare al prossimo Brawl Pass Zitti 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 Se vinciamo questa ne facciamo un'altra signori Tutto dipende da questa partita Se la vinciamo ne facciamo un'altra Dai così, dai così Che ti tiro i pugni come se non ci fosse un domani Non può niente contro di me Dai, dai, falla fuori Falla fuori Dai che è morta No, mi ha ammazzato lei Però l'abbiamo segnato Ti ho rassegnato 1-0 Parla al centro Va bene così Va bene così Va bene così Va bene così Io volevo tirare tanti bei pugni come se non ci fosse un domani E non sono riuscito a fare nulla Riesci a ammazzarne una Riesci a ammazzarne una Siamo riusciti a ammazzarla Buona così Dove sta il pallone E là c'è un primero Là c'è un Vabbè Io mi disinteresso completamente della partita Signori Spettacolo Siamo stati migliori Bella così Non so perché ma siamo stati migliori Ok Va bene così Grande primero Bella così Bella così Dammi tanti bei cosi Gioca ancora Ah sì Gioca ancora Dai Dai così E rigiochiamola Dai Quinta partita Signori Se riusciamo a fare 5 su 5 Dico Da scrivere nel calendario Questa giornata Se riusciamo a fare 5 su 5 Dico E veramente Da scrivere sul calendario Dai che Ti tiro i pugni Come se non ci fosse un domani Ti tiro i pugni Come se non ci fosse un domani E dai Fallo fuori Dai 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 così Dai così Perché sta scappa Guarda come scappa Guarda come scappa Ti tiro i pugni Come se non ci fosse un domani Ok Quello l'abbiamo fatto fuori A te ti faccio fuori fuori Dai così Dai così Signori Non ce n'è per nessuno Ne abbiamo fatti fuori due Dando G X Alma Ci porta in vantaggio Siamo una squadra Fortissimi Fatta di gente Fantastici E non poti Io tiro la palla E ti tira legnate Che neanche Neanche ti immagini Quante legnate Te sto a tirare Dai dai Calma Allora là c'è un primero Che deve morire subito Perché ha ucciso Il mio amico Yogi Ma c'è un robottino Che deve morire Pure subito Velocemente Allora Recuperiamo un attimo Il pallone Evitiamo l'ascito Signori Facciamo un rapido giro Da questo lato Accelerazione Lungo la fascia Se ne va Remistirio Non lo ferma nessuno Remistirio 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 Signori No Mi ha fatto perdere Ho perso il pallone A limite dell'aria Non ci posso credere Stavo per segnare Gol Vittoria Signori Mi hanno fatto arrabbiare Mi hanno fatto arrabbiare Non ce n'è più Per nessuno Mi hanno fatto arrabbiare Dove siete Che vi piglio Tutti a ceffone in faccia Dove siete Venite qua Vi piglio Tutti a ceffone in faccia Tutti a ceffone in faccia Tutti a ceffone in faccia Va bene Alma ha fatto doppietta Signori Va bene così 2 a 0 Ce la portiamo a casa Va bene così Mi dispiace Siamo troppo forti C'è poco da fa C'è poco da fa Signori Quando uno è Quando uno è bravo E bravo C'è poco da fa Quante cose abbiamo preso 537 E 265 teschi Va bene signori Allora Il ritorno sul Brostard È andato bene Quindi non ci lamentiamo Detto questo Vi ringrazio per guardare Questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao 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 Grazie a tutti